Andiamo a Tursi. Tursi non è più in lockdown. Ieri il sindaco ha revocato con effetto immediato l'ordinanza di domenica che evitava anche fra le tante altre cose anche i minori di uscire di casa. Troppo restrittiva questa ordinanza secondo il prefetto di Matera. La situazione dei contagi nel comune però intanto resta delicata come ci spiega Diana Fichera. E' stata revocata con un giorno d'anticipo l'ordinanza con cui lo scorso 7 marzo il sindaco di Tursi Salvatore Cosma aveva stabilito tre giorni di lockdown nel comune per cercare di limitare il diffondersi del virus. Una decisione arrivata ieri al termine di un incontro in prefettura a Matera. Nonostante l'alto numero dei contagi a Tursi l'ordinanza limitava in modo eccessivo libertà personali ed iniziativa economica secondo il prefetto Rinaldo Argentieri. In un territorio che già conosce come tutta la regione le pesanti restrizioni della zona rossa. Fra le misure decise dal sindaco c'era il divieto assoluto di circolazione dei minori, vietato anche uscire per fare la spesa, generi alimentari consegnati solo a domicilio. Era un provvedimento temporaneo in attesa dei tamponi, ha spiegato Cosma, per questo ha accettato con tranquillità di revocare le disposizioni. E' chiaro però che non è un liberi tutti. Nel comune ci sono attualmente 56 positivi e atteso stasera il risultato dei 195 tamponi fatti per la maggior parte sui contatti delle persone contagiate.